Ed eccoci rientrati in studio, ripartiamo dalle parole e dichiarazioni di Federico Bernadeschi del post-gara di ieri. Abbiamo giocato da grande squadra e l'abbiamo dimostrato in un campo non facile, perciò siamo contenti e soddisfatti della nostra prestazione. Dobbiamo continuare così su questa strada e poi vedere in futuro che cosa verrà fuori. Io credo che ogni gol sia un po' speciale, perché ogni gol ha la sua storia. Perciò sì, magari dal punto di vista dell'esecuzione è un po' il più bello, però sono contento soprattutto per la vittoria e poi i gol se si arrivano bene, se no arriveranno poi. Non c'è un perché, ci sono partite, ci sono sfumature, ci sono dettagli, magari crei dieci occasioni da gol e non riesci a fare gol. Poi magari come oggi ne riesci a fare quattro, non credo sia un fattore casa o fuori, anzi i nostri tifosi sono sempre con noi, perciò siamo soddisfatti. Comunque giocare bene fa piacere a tutti, fare gol altrettanto, perciò bisogna continuare così su questa strada. Il campionato è lungo, ce la possiamo mettere tutta e poi come ho già detto in futuro vedremo dove arriveremo. Un flash dalla mia Curva Fiesoli, il Presidente del Viola Club Poggi Bonzi. Paolo, prego. Sì, no niente, in proposito sempre di Bernardeschi, volevo fare una considerazione che a inizio del campionato, ovviamente la squadra non era nemmeno delle condizioni fisiche, atleti e di Omeura. Lo stesso Sosa ha variato molte volte le formazioni, ha variato moduli all'interno della stessa partita, quindi è anche comprensibile lo stesso Bernardeschi abbia trovato delle difficoltà, cosa che invece adesso, se anche Sosa ha dato una fisionomia un po' più precisa alla squadra, ne beneficia anche lui come tutti gli altri del resto. Ha trovato più la quadratura del cerchio Paolo Sosa, ma giustamente ha parlato anche di condizione, Paolo, il Presidente del Viola Club Poggi Bonzi, perché vediamo una squadra anche in condizione fisica diversa. Si vorre molto di più rispetto a prima. Sei d'accordo in questo? Credo che siano esigenze diverse, l'anno scorso le fonti mi dicono che avesse fatto una preparazione per avere un atteggiamento molto aggressivo, per sviluppare, non dare tempo alle squadre di ragionale, sviluppare energia e quindi gioco laddove loro avevano maggior qualità, che era la fase offensiva, e quindi per partire a fare un campionato così come poi è stato, dove nel girone d'andata ha fatto un sacco di punti, era scontato che per fare una preparazione, diciamo veloce, fare una preparazione leggera, era scontato che poi si ripercuoteva nel periodo invernale, con i campi pesanti e così poi è stato, in più ha combaciato con qualche risultato negativo, ha combaciato con una serie di cose e quindi questo ha condizionato il rendimento. Quest'anno invece hanno utilizzato una strategia diversa, hanno pensato a lavorare per mantenere questo regime, questo sviluppo di gioco che lui ha nel tempo e quindi hanno fatto un pochino più di fatica, sono stati molto più macchinosi nello sviluppare questo gioco nelle prime giornate, però una volta che poi hanno trovato condizioni, sulla carta dovrebbero ora essere in grado di mantenerlo per un periodo un pochino più lungo. Quanto sei amico di Manuel Pasquale e quanto ti sarebbe piaciuto continuare a vederlo all'interno della Ferentina? Sono molto amico perché quando è arrivato era un ragazzino e io invece era un vecchio e quindi di conseguenza gli ho dato anche una mano ad integrarsi, lui è un ragazzo straordinario, giocatore straordinario, probabilmente è stato penalizzato, questo suo atteggiamento da persona per bene l'ha penalizzato anche perché forse fosse stato un po' meno per bene avrebbe fatto una carriera anche lontana da Firenze perché aveva grandi qualità, ora anche lui è invecchiato e di conseguenza ogni tanto lo vedo perché quando vengo qui a Firenze che ci rincontriamo con i vecchi ovviamente alle cene spesso capita che ci sia anche lui, è un ragazzo che è difficile non legarsi, è difficile non stimarlo, non volerli bene, di conseguenza ho un grande rapporto di stima e quindi penso che sia un ragazzo per bene e mi capita di rivederlo. Fannucci, Pasquale, insomma, è dispiaciuto quando è partito da Firenze, si aspettava uno scenario diverso, insomma un epilogo diverso poi alla fine della situazione. L'epilogo è stato veramente molto bello, il saluto del Franchi a Manuel con tutto lo stadio in piedi, Manuel commosso. Ah, il saluto senza altro, applausi che tra l'altro sono arrivati a Manuel anche proprio al Castellani nella giornata di ieri da parte di Ponte della Fiorentina. Assolutamente, a dimostrazione di come gli anni passati, mi sembra 11 anni passati in Maglia Viola non sono una cosa scontata perché ti fa la Fiorentina. Tra l'altro era anche presente nel momento in cui Manuel annunciò che sarebbe andato via perché eravamo alla Sales in occasione di un'iniziativa legata all'associazione Lorenzo Guernieri e fui tra i testimoni di quella dichiarazione che prese un po' alla sprovvista anche gli stessi giornalisti che non se lo aspettavano. Io penso però che all'interno di uno spogliatore, di una società ci siano delle valutazioni che spesso non escono fuori ed è anche giusto che non escano fuori sul perché tengono fatte alcune scelte. Mi sembra però che Pasquale si sia comportato veramente da grande signore e questo il pubblico della Fiorentina gliel'ha riconosciuto e glielo riconoscerà sempre. Io mi auguro con tutto il cuore che ci sia sempre spazio per Pasquale qui in questa città, nella società e che rimanga un cittadino fiorentino anche perché poi lui vive a Firenze ed è molto legato alla città e lo incontrai anche alla DJ Ten poco dopo perché lui è un grande amico dei ragazzi di Radio DJ e mi disse io sono arrivato qua che appunto ero un ragazzino, mi sono nati tre figli in questa città i miei figli sono fiorentini quindi il legame è di quelli indissolubili. Ha ringraziato anche ieri Manuel Pasquale, i tifosi della Fiorentina che lo hanno applaudito al Castellani poi ha parlato anche di Federico Pernardeschi. Ti chiedo anche dell'applauso dei tifosi viola, erano logici ma insomma se ti hanno fatto piacere. Beh è normale, hanno lasciato un ricordo indelebile dentro di me in queste 11 stagioni soprattutto dopo l'8 maggio e quindi penso di essere, sono felice e contento comunque di quell'applauso. È normale che speravo oggi venire fuori con un risultato diverso. Vino a vederlo e continuo a frequentarli, sicuramente mi ha fatto impressione non vedermi più con quella maglia come ho detto in settimana, però dopo il fischio inizio si abbandona tutto e comunque diventano avversari. Fede è un grandissimo giocatore, ha delle grandi qualità, delle doti tecniche, fisiche che può fare la differenza e può spaccare le partite. È normale che vista l'età, se gli viene messa tutta la pressione addosso e tutto passa attraverso lui sicuramente potete metterlo solo in difficoltà invece di aiutarlo. Invece Fede deve essere lasciato tranquillo e solo con la tranquillità potrà veramente esplodere anche perché secondo me è da grande squadra. Assessore Vannucci, noi ovviamente approfittiamo della sua presenza in studio anche per parlare del nuovo stadio. Ecco, la prima domanda è si farà, non si farà? Quando insomma inizieranno i lavori? Sarà presentato il progetto veramente? Quando? Che idea si è fatto? Io ho sempre fatto, fin da quando mi sono trovato a fare ben volentieri questo mestiere particolare che è l'assessore allo sport di una città in cui lo sport è una parte importantissima della vita della città stessa. sono sempre stato tra gli ottimisti, sono sempre stato tra quelli fiduciosi che la volontà di dare alla Fiorentina una casa all'altezza del calcio di oggi sia una volontà assolutamente condivisa tra amministrazione e società. Di fatto dopo poche settimane dal nostro insediamento, dall'insediamento del sindaco Nardella c'è stata la presentazione del progetto preliminare che era appunto, mi sembra, a luglio del 2014. Immongati sulle date, ma l'avete lasciato fare. Dopodiché c'è stato un percorso che è stato disegnato ed è stato disegnato con gli atti, con le delibere, con passaggi formali disciplinati dalla legge che disegnano appunto una roadmap, per usare un termine un po' anglofono ma che rende bene l'idea dei passaggi successivi che sono necessari da fare. Appunto con la prima delibere del 2015 che ha fissato il tempo. Poi dopo c'è stata una richiesta da parte della società di prolungare il periodo per presentare il progetto e adesso questa scadenza è imminente perché il 31-12 c'è una scadenza, i segnali che la Fiorentina ha fatto arrivare non soltanto al Comune ma a tutta la città anche attraverso la stampa lasciano immaginare quello che anche noi dell'amministrazione sosteniamo da tempo sia io, sia il sindaco Nardella, sia l'assessore Perra ovvero che in questi mesi passo passo, spalla a spalla, l'amministrazione e la società hanno lavorato sulla stessa direzione che è quella appunto di dare alla Fiorentina il prima possibile una casa all'altezza delle sue ambizioni. Donato Mongatti, insomma questa è la tua materia in effetti. Sì, grazie per la stima. Esiste però un grosso problema di fondo in questa questione perché la Fiorentina in base all'articolo 1 della legge 147 del 2013 della quale, di quella che viene pattezzata la cosiddetta legge Nardella perché quando l'attuale sindaco era parlamentare ha fatto questa legge per velocizzare i tempi i tempi dei quali si lamenta sempre la Fiorentina della burocrazia però costruire uno stadio con 87 mila metri quadri di sulla superficie utile ordine, di commerciale 50 mila di metri quadri di commerciale 27 mila di direzionale 10 mila di turistico ricettivo a maggior ragione, anche se dobbiamo farlo per un capannino per gli attrezzi a fare in fondo al nostro giardino implica una serie di passaggi e di valutazioni assolutamente significativi. La Fiorentina il 14 luglio 2014 presenta un progetto che va ad insistere dove attualmente c'è la Merca Fili Mercati Generali di Firenze quando una variante del 2012 fatta dal sindaco precedente attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi prevedeva di dividere in due l'area e nella parte, quella più piccola, nella parte nord riqualificare il mercato di Firenze e nella parte sud fare lo stadio con un po' di commerciale Cosa succede? La Fiorentina chiede tutti i 48 ettari quindi bisogna trovare una nuova casa per il mercato e questo è quel passaggio fondamentale affinché tutto possa andare a posto perché non è... La nuova casa è chi finanzia comunque lo spostamento di tutto Non è nelle disponibilità del Comune un terreno atto ad accogliere la Merca quindi nella delibera del 7 gennaio 2015 tra le prescrizioni che la Giunta ha indicata alla Fiorentina c'è quella della monetizzazione del comparto nord cioè a dire la Fiorentina versa nelle casse del Comune una cifra che all'incirca è stata stabilita sui 19 milioni di euro ma una cifra che può variare attraverso la quale il Comune può acquisire dai privati un'area per trovare casa alla Mercafi Qual è la questione in nodo fondamentale? Arriviamo alla questione perché mi sono già perso La Fiorentina questi soldi li caccerà detto in soldoni quando avrà il SID definitivo perché se non c'è il SID definitivo non è che avanza questi 20 milioni e purtroppo c'è molta incertezza anche per quanto riguarda la nuova casa del mercato che si parla l'area allo smannore che sta individuata dal Comune non piace ai grossisti si parla dell'area di Castello ma c'è ancora in essere il piano urbanistico esecutivo quindi come è stato detto in Consiglio Comunale dall'assessore Perra e anche dal sindaco stesso bisogna trovare una via comune non si può ricorrere all'esproprio perché con il PUE in essere sarebbe un bagno di sangue è una cosa non sostenibile Spostamento comunque si dovrebbe accollare la Fiorentina, giusto? I costi per individuare il terreno, sì poi la realizzazione del mercato è una cosa che è prevista e quella è un'altra questione Assessore c'è da aggiungere qualcosa? Cioè risponde a questo nodo? No, su questo nodo è un nodo che è ampiamente conosciuto e dibattuto ed è ampiamente affrontato dall'amministrazione comunale tant'è che abbiamo tutt'oggi un tavolo aperto a cui io non siedo perché mi occupo della parte sportiva dove siede il mio collega allo sviluppo economico il mio collega all'urbanista ovviamente il sindaco Nardella con il presidente della Mercafi per addivenire una soluzione che sia in grado di rendere soddisfatti tutti gli elementi di questa grande operazione che è una grande operazione di sviluppo della città io vorrei sempre tornare all'inizio non perché mi piacerebbe avvolgere il nastro non sono uno a cui piacerebbe avvolgere il nastro però è bene che le cose siano chiare quando fu approvata la delibera il 7 di gennaio dico bene Donato? 7 di gennaio 2015 mi ricordo che era il numero uno del 2015 perché fu un bel modo prima delibera dell'anno un bel modo di iniziare l'anno insomma c'era appena stata la processione dei magi della Befana ecco il 7 di gennaio ci fu subito come prima delibera che era la dichiarazione di interesse pubblico della proposta della Fiorentina il sindaco Nardella parlò di due grandi infrastrutture due grandi trasformazioni urbanistiche al nord ovest della città sicuramente lo stadio e anche il mercato e adesso noi stiamo tenendo aperto un tavolo con l'amministrazione comunale per risolvere evidentemente la questione del mercato ma questo non impedisce di andare avanti parallelamente in accordo con la società rispetto alla progettazione della casa di cui parlavamo prima poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa sono le ultime notizie di stampa date alla Nazione dove si parla e io mi auguro che sia una notizia sbagliata anche se generalmente Ilario Olivelli sulla Nazione invece le azzecca sistematicamente che la Fiorentina presenterà al Comune un altro progetto preliminare e non un progetto definitivo una cosa un po' più dettagliata ma che non è un progetto definitivo che succede? se noi prendiamo questa legge non si può indire la conferenza dei servizi decisoria senza un progetto definitivo quindi viene fuori quel discorso se la Fiorentina non ha una risposta non ha il via libera è chiaro che la questione Mercafi il Comune comune ha fatto tutto quello che può fare nel 2017 inizieranno i lavori secondo Donato Mongatti? quello no quello è escluso anche perché poi deve essere chiaro una cosa prima si sistema il mercato che ricordiamola a tutti come fatturata è superiore a quella della Juventus il giro di affari dei grossisti della Mercafi poi una volta che si è spostato al mercato si può fare lo stadio non è che si può interrompere un'attività che dà lavoro a 2000 persone la Mercafi non è il mercatino a campo di Marte appena un po' più grande questo l'amministrazione lo sa molto bene la Mercafi è un motore economico pulsante, importante della città di Firenze ma con ottimismo innanzitutto l'assessore allo sport è ottimista io sono assolutamente ottimista lo ero all'inizio con ottimismo quando potrebbero partire i lavori sui tempi non mi voglio sbilanciare perché evidentemente rischiamo di creare attese o troppo ottimiste o troppo pessimiste da una parte o dall'altra io penso che sia giusto che un'amministrazione seria come la nostra parli e parli con atti e si esprima su atti quindi evidentemente stiamo tutti molto interessati a quello che è a breve perché ormai manca veramente poco perché la scadenza è tra 40 giorni quindi ormai non c'è da aspettare molto ricordiamo entro fine anno la Fiorentina presenterà il progetto il 31-12 poi è previsto a inizio dicembre la presentazione ai tifosi quindi si presuppone da capire secondo quanto ci diceva anche Donato Mongatti se sarà però un progetto definitivo oppure no vado a un flash dalla curva Fiesole 30 secondi all'assessore perché ci ho capito proprio per lo stadio presentando la Fiorentina presenta questo progetto no? giusto? ma se oggi o domani dovessero dir di no chi è la Fiorentina oppure è il comune la Fiorentina presenta il progetto giusto? per fare lo stadio e lei poi è della valle se poi viene fatto quello che non vogliano loro che non vogliano loro che non lo faccino oppure possono andare avanti come era prima al castello volevano fare alberga e tutti la Fiorentina presenterà il progetto all'amministrazione l'amministrazione no no ti parlo non vale per i baracchini e i mongati e vale per per lo stadio la Fiorentina c'è un progetto solamente per lo stadio giusto? ci sta che poi la Fiorentina è della valle di Chinodi no? che riteneranno indietro torino sui propri passi una volta presentato il progetto questa è la domanda che vuol fare Claudio molto probabilmente si riferisce dice se viene accordato solo per lo stadio ci sta che della valle non gli interessi più non se ne fa di nulla? no l'amministrazione la legge prevede l'amministrazione farà una valutazione su il project financing presentato dalla Fiorentina il project financing è comprensivo di una serie di cose l'amministrazione comunale con la delibera del 7 di gennaio del 2015 ha indicato nella soluzione proposta con un preliminare dalla Fiorentina una soluzione di interesse pubblico che è la dichiarazione che dice 30 secondi quando si deve andare in pubblicità ok per il comune è di interesse pubblico quello che te hai proposto e quindi si può andare avanti era quello lo snodo fondamentale per dire è di interesse pubblico o non è di interesse pubblico è stato dichiarato di interesse pubblico e quindi si va avanti e per quanto mi riguarda si va avanti con fiducia quindi se diciamo il progetto rispecchia quello erano state le richieste iniziali teoricamente non dovrebbero esserci ovviamente c'è stata diciamo in quell'occasione come diceva giustamente il Mongatti l'amministrazione comunale ha messo delle prescrizioni Fiorentina a queste prescrizioni dovrà ottemperare perché non è un cotto e mangiato ecco insomma non è un cotto e mangiato c'è appunto una conferenza dei servizi che decide perché non è è una valutazione che è anche molto molto tecnica sicuramente sicuramente devo andare in pubblicità vanno bilanciato bene tutti i valori che ci sono in campo sicuramente quanto meno quando sarà presentato e se lo sarà entro fine anno secondo le date il progetto sarà un passo avanti quanto meno quello e poi vedremo gli scenari futuri Mongatti li prevede futuribili vedremo vedremo restate con noi a tra pochissimo poi ovviamente torniamo a parlare di calcio giocato di calcio giocato grazie a tutti